Sant'Agostino alla Zecca, il chiosso ritrovato una parte importante del complesso monastico di Sant'Agostino alla Zecca, il chiosso secentesco, smembrato alla fine dell'Ottocento, prima per leggi di esproprio dei beni ecclesiastici e poi per la costruzione di Costumberto, è diventato parte di Palazzo Ascarelli. Per moltissimi anni, conclusa la destinazione monastica, è stato utilizzato per uffici pubblici e privati, università, tribunale e scuola. Da alcuni mesi, grazie all'impegno di un giovane ed appassionato studioso, Massimiliano Rizzo, presidente dell'associazione Mario Casolaro, è ritornato ad essere un luogo di bellezza, dove il passato rivive e dove si lavora finacemente per la sua valorizzazione. Oltre al chiosso, che conta 16 colonne di tipo tuscanico, vi è la sala a capitolare con interno gotico, caratterizzato da volte invece costolonato e con due grandi colonne dai capitelli svevi che sono stati riutilizzati. Anche questo luogo storico è stato utilizzato per moltissimi anni con ufficio, tolta la mochetta, eliminati i fili elettrici e ripristinati alcuni parti occulte, il monumentale luogo è pronto per essere aperto ad iniziative culturali e sociali. Il taglio del nastro è il prossimo 4 dicembre, con una serata anni 20, mentre il 9 dicembre è la volta di una bellissima mostra.